Una faccenda delicata Il professor Pasquale Loreto, direttore didattico dell'asilo comunale Luigi Pirandello, tutto a Montelusa e dintorni, si richiamava il concittadino illustre, dagli alberghi ai bagni di mare, passando per le pasticcerie, era un cinquantino pelato, curato nella persona, di parola breve, note quest'ultima che Montalbano apprezzava sempre, se non che l'evidente imbarazzo nel quale si cuoceva il direttore cangiava di tanto in tanto la naturale brevità dell'eloquio in uno sconnesso balbettio che aveva già esaurito la sopportazione del commissario e quale a un certo punto decise che se non pigliava il problema in mano avrebbe fatto notte ed erano le dieci del mattino se ben capito in lei, direttore, sarebbe nato il sospetto che uno dei suoi maestri userebbe delle attenzioni, diciamo così, particolari verso una bambina di cinque anni che frequenta l'asilo «E' così?» «Sì e no», fece Pasquale Loreto tutto sudato, torcendosi le dita «Si spieghi meglio allora?» «Beh, per puntualizzare, il sospetto non l'ho avuto io ma la madre della bambina che è venuta a parlarmi» «Va bene, la madre della bambina ha voluto denunziare a lei la faccenda nella sua qualità di direttore didattico» «Sì e no», fece direttore didattico, torcendosi talmente le dita che per un attimo non arrinisci più a districarle «Si spieghi meglio allora?» disse Montalbano ripetendo la battuta di prima «Gli pareva di essere alle prove di una commedia solo che quella storia, commedia non era» «Beh, la madre della bambina non è venuta a fare una vera e propria denunzia circostanziata altrimenti mi sarei dovuto comportare diversamente, non le pare» «Sì e no», disse Montalbano da Carogna, rubando la battuta all'altro Pasquale Loreto strammò, poi si lasciò andare a una improvvisazione sul testo «In che senso, scusi?» «Nel senso che lei, prima di denunziare a sua volta il maestro e l'ufficio competente avrebbe dovuto raccogliere qualche altro elemento a carico svolgere, come dire, una sua indagine personale nell'ambito dell'istituto questo non l'avrei mai fatto e perché no? Ma si figuri, nel giro di un'ora nell'istituto tutti avrebbero saputo che io facevo domande sul maestro Nicotra già parlano e sparlano a vacante, si immagini se do a loro un minimo di pretesto io mi posso muovere solo a colpo sicuro, io non posso muovermi senza una denunzia ma vede, commissario, la madre si fa uno scrupolo a... «Facciamo così», tagliò Montalbano sentendo che l'altro ricadeva nel balbettio «Lei conosce la signora Clementina Vasile Cozzo?» «E come no?» fece il direttore Loreto illuminandosi «è stata mia insegnante, ma che c'entra?» «Può essere una soluzione» «Se io e la madre della bambina ci incontriamo a casa della signora Vasile Cozzo per un colloquio informale, la cosa non desterà curiosità o chiacchiere «Diverso sarebbe se io venissi a scuola o la signora si presentasse qua» «Ottimo, deve portare la bambina?» «Per ora non credo sia necessario» «Si chiama Laura Tripodi» «La madre o la figlia?» «La madre» «La bambina?» «Anna» «Tra un'ora al massimo le telefonerò all'istituto» «Deve prima chiamare la signora Clementina e sapere quando è disposta» «Ma commissario, che domande? Lei può venire a casa mia con chi vuole e quando vuole» «Le andrebbe bene allora domani mattina alle dieci» «Così la signora Tripodi accompagna la bambina a scuola e poi passa da casa sua» «Spero di non disturbarla a lungo» «Mi disturbi fino all'ora di pranzo compresa» «Le faccio preparare qualcosa che le piacerà» «Le è un angelo, signora» «Riataccò e convocò Fazio» «Tu ci conosci qualcuno all'asilo Pirandello?» «No, dottore, ma mi posso informare» «Mia nipotezzina ci manda suo figlio Tanino» «Che vuole sapere?» «La signora Clementina servì il caffè disinvoltamente, muovendosi con la sedia a rotelle e quindi sparì con discrezione nel salotto» «Chiuse persino la porta» «Laura Tripodi non era per niente come il commissario se l'era immaginata» «Doveva avere passato da poco la Trentina ed era fisicamente una fimmina di tutto rispetto» «Niente di vistoso» «Anzi, il soggetta ier che indossava tendeva a castigarne le forme» «La controllata sensualità della donna, però, era una cosa quasi palpabile» «Che affiorava dallo sguardo, dal movimento delle mani, dal modo da cavallare le gambe» «La faccenda che mi ha riferito il direttore Loreto è molto delicata» «Esordì Montalbano e a me occorre per potermi muovere d'avere un quadro chiaro della situazione» «Sono qua per questo» disse Laura Tripodi «È stata Anna, mi pare si chiami così» «A dirle delle particolari attenzioni del maestro» «Sì, che le disse esattamente» «Che il maestro le voleva più bene delle altre» «Che era sempre pronto a levarle e a metterle il capottino» «Che le regalava caramelle di nascosto da tutti» «Non mi pare che neanche a me sul principio» «Certo mi seccava che la bambina si sentisse una privilegiata» «Mi ero infatti ripromessa di parlarne un giorno o l'altro col maestro Nicotra» «Poi capitò una cosa» «Si fermò arrossendo» «Signora, io capisco che le pesi tornare su un argomento così sgradevole» «Ma si faccia forza» «Io ero andato a prenderla, come del resto faccio sempre» «Se non posso ci va mia suocera» «Era via di venire fuori, come dire accalorata» «Le domandai se avesse corso» «Mi rispose di no» «Mi disse che era contenta perché il maestro l'aveva baciata» «Dove?» «Sulla bocca» «Montalbano ebbe la certezza che se avesse accostato un fiammifero alla pelle della faccia della fimmina» «Sarebbe acceso» «Dov'erano quando il maestro l'ha baciata?» «Nel corridoio» «Lui la stava aiutando a indossare l'impermeabile perché pioveva» «Erano soli?» «Non credo» «Era l'ora che tutti escono dalle classi» «Il commissario si domandò quante volte avesse baciato dei bambini senza che le madri avessero pensato a intenzioni tinte» «Poi però era venuta la storia, nazionale e internazionale, dei pedofili» «È capitato altro?» «Sì, l'ha carezzata a lungo» «Come l'ha carezzata?» «Non ho avuto il coraggio di domandarlo ad Anna» «Dov'è successo?» «Nel bagno» «Ahi!» «Il bagno non è il corridoio» «E cosa ha detto il maestro per convincerla a seguirlo nel bagno?» «No, commissario» «La cosa non è andata così» «Anna si era tagliata un dito, si era messa a piangere allora il maestro» «Ho capito» «Piace Montalbano» «In realtà ci aveva capito poco» «Signora, se le attenzioni del maestro si sono limitate a...» «Lo so da me, commissario» «Possono essere solamente gesti d'affetto senza secondi fini» «Ma se non lo fossero» «E un giorno si decidesse a fare qualcosa di irreparabile» «E il mio cuore di madre» «Stava scivolando nel melodrammatico» «Si era portata una mano sul cuore, col fiato grosso» «Seguendo l'indicazione della mano, Montalbano non pensò al cuore di Laura Tripodi» «Ma alla carne, che morbidamente lo copriva» «Mi dice che le intenzioni di quell'uomo non sono sincere» «Che devo fare?» «Denunziarlo non voglio» «Potrei rovinarlo per un equivoco» «Ecco perché» «Ne ho parlato col direttore» «Lo si potrebbe allontanare discretamente dalla scuola» «Discretamente» «Peggio di una condanna» «In un tribunale avrebbe potuto difendersi» «Ma così, allontanato alla taci-maci e lasciato in balia delle male voci» «Poteva solo spararsi un colpo» «Forse la bambina correva qualche pericolo» «Ma chi si trovava in quel momento in una situazione laida sa» «Era proprio al maestro Nicotra» «Ne ha parlato con suo marito» Laura Tripodi rise di gola «Parse il tubare d'una colomba» «Quella fimmina non arrinisciva a fare una cosa» «Maccari la più semplice» «Senza che nella mente di Montalbano non passassero immagini di letti sfatti e di corpi nudi» «Mio marito» «Ma io sono quasi vedova, commissario» «Che significa quasi?» «Mio marito è un tecnico dell'ENI» «Travaglia nell'Arabia Saudita» «Prima abitavamo a Fela Poi ci siamo trasferiti a Vigata Perché qua vive sua madre E mi può dare una mano d'aiuto per la bambina» «Mio marito torna a Vigata due volte all'anno Per quindici giorni Però guadagna bene E io mi devo contentare» «Quel contentare?» Spalancò di colpo un abisso di sottintesi Sull'orlo del quale il pensiero del commissario Si fermò scantato «Lei quindi vive sola con la bambina?» «Non esattamente Ho poche amicizie Però due o tre volte alla settimana Io e la bambina Andiamo a dormire in casa di mia suocera Che è anziana e vedova Ci teniamo reciprocamente compagnia Anzi Mia suocera vorrebbe che ci trasferissimo Definitivamente da lei E forse finirò per fare così» Nicotra Leonardo Tornato a Minichillo Capì che Fazio Capì che Fazio l'aveva fatto apposta Per provocarlo Decise di non dargli spazio «Vai avanti» Tanticchia deluso Fazio riattaccò «Da due anni vive a Vigata In via Edison al civico 25 È maestro supplente presso l'asilo Pirandello Non gli si conoscono né vizi né donne Non si occupa di politica» Ripiegò il foglietto degli appunti Se lo mise in sacchetta Rimase a tagliare il suo superiore «Beh, hai finito?» «Che hai?» «Lei me lo doveva dire» Fece offiso Fazio «Che ti dovevo dire?» «Che corrono voci sul maestro Nicotra» Il commissario si sentì a gelare «Vuoi vedere che c'era stato qualche altro caso?» «Che non si trattava della fantasia di una fimmina Il cui marito stava assente troppo a lungo?» «Cosa hai saputo?» «Mia nipotezina mi ha riferito che da una simana C'è questa filama Questa voce che dice che il maestro Nicotra Si stringe troppo le piccilidre» Prima il maestro era portato in canta Di mano Tutti a dire quante buono e quante bravo Ora invece qualche madre Pensa di levare la figlia dalla classe «Ma c'è stato qualcosa di concreto?» «Di concreto niente, solo voci» «Ah, me lo stavo scordando» «Mia nipote dice che la zitta gli ha portato sfortuna» «Non ho capito niente» Il maestro si è fatto zitto con una picciotta divigata E qualche giorno appresso Sono principiate le voci «Direttore Loreto» «Commissario Montalbano sono» «Pare che la situazione stia precipitando» «Eh, già già, ho saputo» «Senta, domani mattina alle dieci e mezzo Vengo da lei all'istituto Faccia in modo che io possa incontrarmi con Anna, la bambina «C'è un'entrata secondaria?» «Non vorrei essere visto» «E non dica niente alla madre» «Non voglio averla tra i piedi» «La sua presenza potrebbe condizionare la piccola» Mentre continuava a travagliare in ufficio Ogni tanto un pinziaro fastidioso gli passava per la testa Era che lui, senza una denunzia di qualche madre o dello stesso direttore Non era autorizzato a fare un passo Per natura sua, delle autorizzazioni Era portato a stracatafottersene altamente Ma qui c'era di mezzo la piccilidra E alla sola idea di doverci parlare con delicatezza, con cautela Per non turbarne l'innocenza Si sentiva sudare freddo No, doveva assolutamente ottenere una denunzia dalla signora Tripodi Aveva il numero che la signora stessa gli aveva dato in mattinata Rispose la segreteria telefonica «Sono momentaneamente assente Lasciate un messaggio o chiamate al numero 535267» Doveva essere il numero telefonico della suocera Stava per comporlo, ma si fermò Forse era meglio pigliarla di sorpresa, Laura Tripodi Ti sarebbe andato di persona, senza preavvisarla «Fazio!» Comandi Dimmi l'indirizzo del 535267 Tornò dopo manco un minuto Corrisponde a Barbagallo Teresa, via Edison 25 Senti, ti vediamo domani mattino Ora passo da questa signora e poi vado a casa mia, a Marinella Buonanotte Nisci dal commissariato Fece qualche passo S'arrestò di botto S'appoggiò al muro Il lampo che gli era esploso in testa l'aveva accecato «Si sente male, commissario?» Spiò uno che passava e che lo conosceva Non rispose Tornò di corsa al commissariato «Fazio, che fu, dottore?» «Dov'è il foglietto?» «Quale foglietto?» «Quello che mi hai letto con le notizie sul maestro» «Fazio si infilò una mano in sacchetta» «Tirò fuori il foglietto» «Lo pruì al commissario» «Leggilo tu» «Dov'è che abita il maestro?» «In via Edison 25» «Cioè, che curioso» «Proprio dove stava andando lei, ora ora» «Non ci vado più» «Ho cangiato idea, me ne torno dritto a casa» «In via Edison ci vai tu» «A che fare?» «Vedi com'è la casa?» «A che piano abita la signora Barbagallo?» «E a quale il maestro Nicotra?» «Poi mi dai un colpo di telefono» «Ah, senti» «Informati magari se la signora Barbagallo è la socira di una giovane signora che si chiama Tripodi e che ha una bambina» «Ma non fare rumorata» «Cerca di essere discreto» «Stia tranquillo, non me la porto appresso la banda comunale» fece Fazio che in quel giorno aveva l'offisa facile la telefonata di Fazio è arrivata in pestiva proprio sul finale del film giallo al quale Montalbano si era appassionato malgrado l'avesse già visto almeno cinque volte «Delitto perfetto» di Hitchcock «Sì, signore» Teresa Barbagallo era la socira di Lausa Tripodi aveva un appartamento al secondo piano della palazzina al terzo e ultimo ci stava il maestro Nicotra la palazzina era fatta così e a ogni piano c'era un solo appartamento la signora Tripodi con la figlia spesso va a dormire dalla socira al primo piano abita un tale che si chiama «Non interessa il primo piano?» «Va bene, buonanotte» per il commissario fu una notte non buona ma è eccellente si fece sei ore di sonno piombigno ora che si sapeva quello che doveva fare il disagio di dover interrogare la piccilidra non lo sentiva più piccole macchie di inchiostro sulle dita certificavano che era vera altrimenti il vestitino rosa e vaporoso il fiocco sui boccoli biondi i grandi occhi azzurri e la boccuccia perfetta e il nasino leggermente all'insù avrebbero fatta apparire finta una bambola a grandezza naturale mentre il commissario stava a trurcinearsi il cervello su come principiare il discorso Anna attaccò per prima «Chi sei tu?» Montalbano per un attimo si scantò ebbe paura di avere un attacco di dismorfofobia che sarebbe, come gli aveva spiegato un amico psicologo il timore di non riconoscersi allo specchio certo la bambina non era uno specchio ma lo metteva davanti a una definizione di identità sulla quale nutriva seri dubbi «Sono un amico di papà» sentì la sua voce dire qualcosa dentro di lui aveva tagliato corto «Papà torna tra un mese» disse la piccilidra «e ogni volta mi porta tanti regali intanto con me ti ha mandato questo» e le porse un pacchetto che Anna scortò subito era una scatola di plastica aveva cicolori a forma di cuore che aprendosi mostrava al suo interno in un minuscolo appartamento arredato «Grazie! Vuoi un cioccolatino?» spiò il commissario arraprendo il sacchetto che aveva accattato «Sì, ma non lo dire alla mamma lei non vuole dice che mi fa venire la bua al pancino il tuo maestro il tuo maestro te li dà i cioccolatini quando fai la brava con lui? ecco a voi il verme montalbano che inizia a scavare la mela dell'Eden innocente» «No, lui mi dava le caramelle» «Ti dava? Perché? Ora non te le dà più?» «No, sono io che non voglio» «È diventato cattivo» «Ma che dici?» «La tua mamma mi ha raccontato che ti vuole tanto bene che ti fa le coccole che ti bacia» ecco il verme dentro la mela che comincia a imputridire «Sì, ma io non voglio più» «Perché?» «Perché è diventato cattivo» il telefono sonò improvviso nella camera e parse una raffica di mitra santiando senza voce montalbano scattò alzò il ricevitore bufonchiò siamo tutti morti riattaccò sollevò nuovamente il ricevitore lo lasciò staccato la bambina rise «Sai buffo tu» «Lo vuoi un altro cioccolatino?» «Sì» «Ingozzati e pacienza se ti viene tanticchia di buo al pancino» «Senti hai litigato col maestro?» «Io?» «No» «Ti ha sgridata?» «No» «Ti ha fatto fare cose che non volevi?» «Sì» Montalbano provò un acutissimo senso di delusione «Aveva sbagliato tutto le cose stavano come le aveva raccontate la madre della Piccilidra «E che cose?» «Voleva aiutarmi col cappottino ma io gli ho dato un calcio nelle gambe» «Beh allora mi pare che sei proprio tu la cattiva» «No lui» il commissario inspirò come per andare in apnea si tuffò «Scommetti che io so perché tu dici che il maestro è diventato cattivo?» «No non lo sai è un segreto che conosco solo io» «E io sono un mago perché ha fatto arrabbiare la mamma» la bambina spalancò contemporaneamente occhioni e boccuccia «Sei un vero mago tu?» «Sì è per questo mi ha fatto piangere la mamma» «Non le vuole più bene lui ha detto così che la mamma non deve più andarlo a trovare su quando tutti dormono e mamma piangeva io ero sveglia e ho sentito tutto nonna invece non ha sentito quella non sente mai niente piglia le pillole per dormire e poi è un poco sorda» «Glielo hai detto alla mamma che avevi sentito?» «No era un segreto mio però quando papà torna io a lui glielo dico che il maestro ha fatto piangere la mamma così lo piglia a botte che me lo daresti un altro cioccolatino» «Certo senti Anna tu sei proprio una brava bambina» «Quando papà torna non dirgli niente ci sta pensando la mamma ora a far piangere il maestro Nicotra»